ciao a tutti e bentornati a gioca con me giochi per bambini allora vi ricorderete sicuramente della nostra fragolina antistress super profumata che vi avevo consigliato ultimamente oggi faremo una cosa che piace tantissimo a tutti voi devo ancora capire il motivo per il quale vi piaccia è però insomma oggi sicuramente so che farò una cosa ben granita a tutti voi e che avete pensato a questa cosa sin dal primo momento che vi ho fatto vedere questa super fragolona lo so lo so avete già capito cosa faremo anche perché il titolo non inganna oggi taglierò questa super fragolona per vedere all'interno che cosa si nasconde e soprattutto magari capire da dove arriva questo profumo intenso buonissimo veramente buono 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 come vi ricorderete una super fragolanti di stress che mi piace tantissimo il tempo vedete con cui torna nella sua posizione normale insomma è relativamente breve e a me incanta come ho già detto nello scorso video cioè guardate se non può incantare è meraviglioso ragazzi veramente porta via lo stress cosa ci sarà dentro slime vediamolo insieme ho preso le forbici iniziamo a tagliare chiaramente non fatelo a casa lo facciamo noi qui per voi non fatelo a casa e guardiamo un po non sembrerebbe esserci in interno dalla morbidezza e infatti non c'è slime ma c'è pasta o meglio come dire vedete questo tessuto molliccio tipo spugna morbida che fa un profumo meraviglioso ecco da dove arriva super 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 profumo buonissimo ragazzi buonissimo veramente meraviglioso adoro wow niente ragazzi io mi incanto tutte le volte a guardare queste cose cioè mi dispiace ma è così insomma vi ho accontentato all'interno avete capito c'è questa sorta di spugna morbida molto profumata che rende la fragolona anti stress molto 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 morbida da maneggiare ed è per questo che riesce anche a tornare in tempi brevi nella sua forma iniziale e le permette anche le consente anche di sfracellarsi tra virgolette cioè vedete la mal tratto veramente molto ma non succede niente quindi questo è un po' il segreto va bene spero di avervi accontentato perché ho letto nelle vostre menti nel primo video noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità quindi rimanete aggiornati rimanete sul canale insieme a noi per tante altre cose tanti film play mobile che più ne ha più ne metta baci 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 a presto a presto a presto a presto a presto